Non fai i capelli come me un po', eh? No! Ah, quello che si è fatto non so! Ciao, ragazzi! Ciao! Adesso iniziamo nel campanò di foto che sono divertiti. Ok, ragazzi, grazie! Sì, ciao! Ciao! Iniziamo? Sì? Dove la facciamo? Qua? Qua! Guardate, qua per le... Sì, sono... Sì! Iniziamo con stai? Iniziamo con stai? Sì! Sì, ciao! Grazie, ragazzi! Grazie, è mapputo la visione, grazie!